E poi invece, dopo la scuola cosa facevi? Cosa facevo? Tornavo a casa, bagnavo, non avevo neanche la spesa, e poi, come ti ripeto, la cacciavamo, la pardaglia di porce, le pecore, a fare lavoro, non era che modi non ti metti, dalla mattina alla sera un ragazzo sempre alla scuola. La mattina le lavoravamo a fare i compiti, e noi i compiti li dovevamo fare la sera, vicino di fuoco, i compiti d'alba, eravamo sacrificati, piccolo piccolo, e non tutti andavamo alla scuola, perché non ci potevano mannare, non tenevano la possibilità. Quindi, noi adesso passiamo le serate mandando la televisione o tutte queste cose moderne, invece voi comunque riuscivate a intrattenere il tempo, a passare il tempo, giusto? Andavi, non so, alla chiesa, oppure quando eri più grande a qualche partito? Fare cosa? Quando eri adulta, quando sei diventata più adulta, frequentavi qualche partito? No, non sono partito. La domenica siamo alla messa, e tutta la settimana, io gli stavo in campagna, e io gli stavo a lavorare, sia l'uomo sia la ragazza, sia... ognuno che ne aveva qualche mestiere suo da fare. Poi, io gli stavo in campagna, ero più triste, più coso, perché tu stavo in campagna, era la ragazza. Tu ne aveva più fame, che io gli stavo in campagna. Grazie. 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 Grazie.